ogni studente suona il suo strumento non c'è niente da fare la cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti trovare l'armonia una buona classe non è un reggimento che marcia al passo è un'orchestra che prova la stessa sinfonia e se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin o lo scaccia pensieri e fa soltanto boing boing la cosa importante è che lo facciano al momento giusto il meglio possibile che diventino un ottimo triangolo impeccabile scaccia pensieri e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica forse non in maniera brillante come il primo violino ma conoscerà la stessa musica il problema è che vogliono farci credere che nel mondo continuo solo i primi violini grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti